Il Natale prende vita nella città di Agropoli. Sono state accese nel pomeriggio di ieri, martedì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione, le luci di Natale che vogliono essere un messaggio di positività in questo particolare momento storico. Le luci di Natale di quest'anno evidentemente sono diverse rispetto al passato, sono molto di meno in quantità, insomma un ragionamento che abbiamo fatto di maggiore sobrietà, atteso il momento così complicato. Come abbiamo detto parte dei proventi che immaginiamo di spendere per illuminare saranno investite nel campo della solidarietà, credo che sia giusto così, però non abbiamo voluto far mancare le luci di Natale perché comunque un segnale di positività, di speranza doveva essere lanciato da parte nostra. L'area di Natale servirà proprio a questo, a farci tirare un po' su e a farci affrontare, ci auguriamo, l'ultimo step di questa terribile pandemia che avverrà subito dopo il periodo di Natale. Magari farci cominciare l'anno in maniera diversa, ecco questa sarebbe l'idea. Quindi abbiamo fatto delle scelte di fare poche cose, ma penso carine. In particolare in piazza abbiamo fatto l'albero solito, questa volta un po' più grande. Abbiamo voluto posizionare una stella cometa all'inizio della piazza, quasi come a indicare insomma alla città un percorso come se fosse una guida che ci deve aiutare a uscire da questo tunnel che pure abbiamo messo in piazza, così complesso è così difficile. Quindi diciamo se vogliamo ci sta anche come dire un senso diciamo dietro questo luminario di quest'anno. Poi abbiamo distribuito in città dei piccoli segnali negli incroci, nelle rotonde, nelle periferie. È giusto un segnale diciamo come abbiamo fatto in piazza del Natale. Non è come ripeto gli altri anni, ma veramente mi auguro che l'anno prossimo invece tutto quello che abbiamo risparmiato ecco quest'anno magari lo investiremo per l'anno prossimo per fare magari uno splendido Natale il prossimo anno dove certamente avremo questa storia alle spalle e potremo guardare con più serenità al futuro. Accensione delle luminarie in piazza Vittorio Veneto, come trova questo allestimento in un Natale particolare diverso rispetto agli altri anni? Il momento è quello che è, hanno fatto un bel allestimento, non hanno esagerato con le luci, almeno per dare un senso di aria natalizia e dare un senso di speranza a tutte le famiglie di Agropoli. L'accensione delle luminarie in piazza Vittorio Veneto, che cosa ne pensa di quest'aria natalizia? Tutto il bene possibile, soprattutto bisogna ringraziare il Sindaco che ci ridà un po' di fiducia per quello che verrà. Quindi l'augurio di Natale e l'augurio soprattutto per un futuro che speriamo tutti sia migliore. Questo sarà un Natale diverso, un Natale particolare. Lei quanto lo sente questo Natale? Io devo dire la verità, lo sento moltissimo perché di solito questo era il periodo in cui noi lavoravamo. Superato novembre che stavamo chiusi col ristorante, a Natale, quindi a dicembre lavoravamo. Quindi quest'anno è stato qualcosa di, come dire, un po' spiacevole. Speriamo bene per il futuro, speriamo soprattutto bene per la gente, soprattutto per il fatto che la salute non abbandoni nessuno. Questa è la speranza che credo tutti quanti ci dobbiamo dare. Il Sindaco poi si sofferma anche sulla decisione della chiusura delle scuole e sulla notizia delle 11 guarigioni che fanno scendere il numero di cittadini positivi al Covid a 44 totali. Io credo che già il fatto di aver voluto mantenere chiuso le scuole, l'amministrazione ha cercato di chiedere ai propri cittadini un ulteriore sforzo perché è evidente che tante famiglie hanno dovuto necessariamente, in qualche modo dovendo rinunciare alla disponibilità delle scuole, comunque uno sforzo in più. Ma volevamo in qualche modo tracciare insieme a loro un percorso comunque virtuoso perché, per esempio, quest'oggi annunciamo che ci sono state 11 guarigioni, il numero dei contagi in città è sceso al di sotto dei 50. Questo voglio dire è un segnale che probabilmente non stiamo agendo male, che forse per la nostra città è un momento tranquillo e ci auguriamo che così rimanga. Quindi quello che vogliamo dire, vogliamo dire oggi, è proprio un messaggio di speranza con le luminarie e di tenere duro in questo periodo ancora così difficile perché, come abbiamo sempre fatto, io credo che dobbiamo guardare al futuro con positività.